Buongiorno, nella nostra rubrica Precari Informa oggi abbiamo deciso di occuparci della mobilità. Premettiamo che la situazione è ancora in itinere e che sono in corso gli incontri tra i MIUR e i sindacati, però abbiamo deciso di occuparci di questa materia un po' per fare il punto della situazione e anche per mettere ordine alla rida di informazioni, a volte improvvisate, che in queste ultime settimane si sono potute leggere su internet e sui vari media. La situazione è molto ingarbugliata e in itinere, quindi ci riserviamo di occuparci di nuovo una volta che ci sarà un testo definitivo e in quel caso la nostra rubrica andremo a dare le informazioni precise e puntuali riguardo la mobilità. La E107 sarà scritta in maniera frettolosa per poterla approvare in tempo utile prima dell'estate e avendo fatto un articolo unico con un accente passacommi, a volte si apre il fianco alla possibilità di poter fare dei ricorsi e possa in qualche modo inficiare tutto l'inter legato la mobilità. Infatti ricordiamo che la E107 prevede per quest'anno un piano straordinario di mobilità che viene fatto a livello nazionale su ambiti territoriali, lasciando però spazio ad alcune derue, tipo quelli neo-immessi ruoli della fase 0A che hanno un comportamento diverso rispetto a quelle della fase B e C e gli immessi ruoli prima del 2014 che hanno una precedenza sì su tutti coloro che sono stati immessi ruoli quest'anno ma al rigor di legge non potrebbero diciamo se facesse domanda volontaria fare domanda su una singola scuola, cosa che sarebbe concessa a chi è stato essuto in ruolo a fase 0A con un intreccio di possibili ricorsi che è evidente. Un contratto ovviamente non può sovrastare una legge e contrastare la legge stessa però da voci più o meno informali che è ufficiosa e che stanno circolando in questi giorni sembra che ci sia la volontà di in qualche modo porre un rimedio alle strutture che derivano da una legge 107. Sembra che la mobilità quest'anno sia suddivisa in due parti sostanziali, una parte con le vecchie regole sulla fase provinciale alla quale potranno partecipare tutti gli immessi in ruolo prima del 1 settembre 2014 e gli immessi in ruolo alla fase 0A. Per questi colleghi, questi docenti, se vorranno spostarsi all'interno della provincia in cui danno la titolarità o prestano servizio nel caso dei immessi in ruolo avranno la possibilità di inserire nella loro domanda una sede scolastica come avveniva nella mobilità ordinaria. Quindi per questi colleghi non ci saranno gli ambiti territoriali che sono introdotti da questa legge. Probabilmente all'interno di questa prima parte ci saranno, come avveniva prima, due fasi distinte. C'è la mobilità all'interno di uno stesso comune con precedenza rispetto a coloro che vogliono cambiare comune, come avveniva esattamente negli anni passati insieme a tutte le priorità legate all'area di 104 e quant'altro. La seconda fase invece riguarderebbe la fase interprovinciale e la fase di mobilità professionale, cioè passaggi di carta e passaggi di ruolo. Per queste persone, chi volesse fare il passaggio professionale, quindi cambiare classico corso o ordine di scuola, potrebbe farlo all'interno della stessa provincia o anche all'interno degli ambiti territoriali e nazionali, però andando su ambito. Lo stessa cosa per chi si trova neomessi in ruolo a fase B e C e per chi è immesso in ruolo prima del settembre 2014 e volesse cambiare provincia, questa possibilità potrà avvenire senza nessuna deroga dei tre anni come c'era in passato, ma attraverso una mobilità straordinaria che consente di fare questa domanda cambiando provincia su tutti i posti possibili e disponibili, quindi compresi quelli del potenziamento, però si potrà andare soltanto su un ambito, si potrà scegliere un ambito le cui ampiezze non sono state ancora delineate in maniera precisa, si sa soltanto, come dice la Regge, che saranno inferiori alla provincia. Sempre in via ufficiosa e dai resoconti che si sono avuti dagli incontri con il Ministero, sembra che il numero di ambiti grossomodo sia la metà degli attuali distretti, quindi poi in provincia si può, per avere un'idea di come saranno gli ambiti, andare a prendere gli attuali distretti, dividerli per due circa e quello dovrebbe essere l'ampiezza di un singolo ambito. All'interno chiaramente di questa seconda parte, quindi mobilità professionale e interprovinciale, applicando la legge, la priorità viene data in maniera diretta e automatica a tutti coloro che sono stati messi in ruolo prima del settembre 2014, che avrebbero precedenza rispetto ai neomessi ruoli. A differenza di quanto si pensava inizialmente, dalla lettura precisa della legge, se non veniva fuori questo, alla fase interprovinciale, su tutti gli ambiti nazionali, potrà partecipare anche il neomessi ruolo nella fase 0 e A, insieme al neomessi ruolo nella fase B e C. Questa sembrerebbe una novità e va in conto ad una serie di richieste fatte da tantissimi colleghi che avrebbero credito poter tornare nei loro paesi d'origine e si sentivano deofrodati dal fatto che questa cosa veniva concessa a qualcuno che aveva meno punti rispetto a loro. Quindi sembrerebbe che la fase interprovinciale sia aperta a tutti i neomessi ruolo, ripeto, però in coda a tutti coloro che erano già immessi in ruolo nel primo 2014. C'è anche la questione delle precedenze riguardo a chi ha vinto il concorso ordinario rispetto alle gali, sembra che questa precedenza rimanga anche all'interno di questa fase sugli ambiti, chiaramente appena ci saranno dei testi definitivi saremo i primi a poter discutere di questo aspetto con tutte le informazioni del caso e tutte le istruzioni per poter fare questa domanda. Nel frattempo appunto buona giornata a tutti quanti.